Allora prima di tutto annuncio importante, oggi è uscito il libro dei mostri, il libro dei mostri, oggi tutti voi potete andare in libreria o lo prendete su Amazon ma se andate in libreria fate anche felici i nostri amici librai che ci espongono sempre in prima fila e andate a comprare il libro dei mostri, ok? Questo libro contiene 28 creature da me inventate con 28 storie, 28 illustrazioni a piena pagina, 28 identikit per sapere dove trovare questi mostri e se siete coraggiosi abbastanza ad andarle ad affrontare, cosa che noi faremo domani per primi alle 18.30 sul canale YouTube con il primo mostro e poi qui in live abbiamo iniziato a costruire il castello dei mostri che ospiterà i monostrimmianomano che io li creerò anche su Minecraft e ve li farò poi avere, ok? Bellissimo, adesso però andiamo a vedere il fulcro della situazione, cioè questa cosa che io ho trovato e però non so a chi appartiene perché io non l'ho fatta a voi, l'avete fatta a voi? No io non l'ho fatta te lo giuro Ma che cosa? Non ho capito Di cosa parli? Se l'aveste fatta voi lo sapreste, cioè se voleste dirmi di averla fatta voi lo sapreste È troppe parole, mi stai confondendo Ma è una cosa bella o brutta? No non è bella, è una minaccia Ah è brutta È brutta, è brutta Io non mi sarei mai permesso di farti una minaccia Venite ma non toccate, non muovetevi da lì No Allora E sta roba qui davanti? Esatto Vedete c'è un cartello glowing che dice ogni giorno si illuminerà una candela E tu da qui non capisci nulla Però ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 8 candele Quindi 8 giorni 8 giorni E c'è scritto uguale Ogni giorno si illuminerà una candela Quindi sembra tipo una cosa che no, un percorso E quando si illuminano tutte succede qualcosa No? Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ma sembra proprio una minaccia Scusa 8 giorni sarebbe Il Ma contando i giorni di live ovviamente Eh no, secondo me no 8 giorni Ah Eh, verrebbe il primo di dicembre praticamente Eh, esatto E che giorno cade? Giovedì Ah Sarebbe durante la live di live No, vengo anch'io però, voglio sapere che cosa succede Cioè Ma sono curioso, però ho paura che sia qualcosa di terribile per noi Aspetta, che cosa... Non lo fa pensare che è una minaccia? Non c'è scritto che succederà una cosa di grave Eh no, perché io ho spizzato anche dentro il barile Eh, mo' vi dico Allora Ah, ecco, ok Dentro il barile ci sono degli oggetti Ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oggetti E dicono Eh, se fossero stati 8 oggetti magari li recuperavano una giorno Ascolta Ehm Sto zitto Tu vuoi proprio nutrirtene Non voglio, non voglio, lo giuro Tu ti... Sento la sua pancia che è pronto Dai, mi ero impegnato, volevo fare una deduzione da Sherlock Non lo faccio più, lo giuro Non sono Sherlock Io sono Watson Tu ti vuoi fare una buffata di ragno No, no, non lo voglio Vidati Allora, adesso vi dirò che oggetti ci abbiamo qui dentro, ok? Ok Allora Eh, sono un po' sparpagliati strani, eh Eh, c'è tipo un rollo... Allora, facciamo una lista, stregato? Libro di Minecraft Faccio... Ah, lo vado a prendere, arrivo! Che lento, Alex, adesso deve mangiarsi il grillo perché tu sei lento Ma no, 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 mamma Ma scusa, lui non c'era qualcos'altro oltre allo scorpione? Avevi i grilli I grilli parlanti Eh, beh, questi grilli vanno aperti, eh Cosa li teniamo lì? Eh? Aiuto Guarda che poi... E lì non li ha mai aperti Comunque l'odore è buono Uh, guardate, guardate Nel mio poca c'era un uovo sodo Questo è buono, eh Buono! L'uovo sodo L'uovo sodo con un po' di maionese è ancora più buono Eh, questa è la ricetta Io l'ho mangiato oggi Allora, c'è Rosa del Wither Ok Uguale onore Onore È proprio scritta e rinominata così Poi Ehm Conchiglia Quella Nautilus Uguale nascosto È un enigma, secondo me Poi Devi scrivere... Devi dire Sì, sì, sto scrivendo Oh, Alex, si deve... Deve ingozzarsi, Alex No Ma no, è giusto, devo darti conferma Io l'ho mangiato il mio perché era colpa mia Lui si mangerà il suo perché è colpa sua Ok Una TNT uguale distruggerò Oddio, no, aiuto Oh mamma Poi Ho scritto Feri, esprimiti con frasi, non... Con queste... Eh, hai ragione, ma... No, questa non era una frase Non era una frase Sì, ti chiedo umilmente scusa Poi C'è una spada Uguale guerra Ah, beh Bello Con quelle belle parole Fino adesso Bellissime, proprio Confortevoli Strea spugnato da feri E si è espresso uguale Come lei prima Un orologio Chiamato poco tempo Sembra sempre di più una minazza, sai Eh Poi abbiamo Un fiorellino Uguale Debole Debole? Debole chi? Sei tu il debole qua? No, non è lui È un fiorellino Poi c'è un blocco Di Stonebrick Uguale città Poi Un blocco Di glowstone No, quello è l'oro Mi sa L'oro L'oro grezzo L'oro grezzo Sicuri? Sì, sì L'oro grezzo Compattato Bellissimo Ma da quando esiste Questo blocco qua? Da L'1 a 17 Ma è bellissimo Ma Alex si sta buffando Di grilli Che si strofano No, no Mi sto strozzando ogni tanto Comunque Credo che abbia tre ragione Perché si chiama ricchezze Ah Sì È proprio quello Chi sapeva dell'esistenza Di questo blocco Tra noi? Alex e 3 Io no Lui sa pure farlo Eh Questo è sus eh L'abbiamo No, 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 no Zitto Poi come ultimo Un secchio di lava Uguale forte Perché la lava è forte? Cioè io avrei detto più calda Tipo Ti brucio qualcosa Mamma tua Ho scritto tutto Perché? Eh Chiedilo a lei Dammi Aspetta che To Suka No Che schifo Dai Alex e dammi il libro Tieni pure Allora No Che schifo Ha scritto in due pa- Oh no Vai ucciso Oh no Cioè noi dobbiamo avere Il quadro generale E tu l'hai scritto in due pagine Che poi ci stava benissimo In una No, no Qua, qua, qua Guarda Sei Stai zitto Stai zitto Stai zitto Stai zitto Stai zitto E lì lo sta mangiando Questa cosa mi sconcerla Prendi grilli Prendi grilli Dai basta Prendi grilli Non li ho mai offerti Prendi grilli Prendi grilli Mamma mia Mamma mia Che vergogna Sei un'umiliazione Per tutta la specie umana Cioè Immaginate Tra migliaia di anni Che gli umani Saranno anche più evoluti Probabilmente No, magari Piano piano Più a cultura La conoscenza di massa Sarà migliore Eccetera E tutti ricorderanno Sto Infame Abominevole Uomo delle nevi Qui E diranno Ah, vi ricordate Sarai tipo Quasi quasi Osannato Come un anticristo Quello Il brutto Ignorante No Dai Allora Adesso vi leggo Tutte le cose Che abbiamo E vediamo Di capirci qualcosa Ok Ok Va bene Leggi pure Allora leggo Prima tutte quelle a sinistra Quindi L'oggetto Rosa del Wither Conchiglia TNT Spada di ferro Orologio Fiorellino Tombrick Oro grezzo E secchio di lava Allora TNT E' palese Che vuol dire Distruzione E infatti Vuol dire Distruggerò Distruggerò Potrebbe essere La prima parola Ah Dici una frase Eh sì Possiamo scriverla Allora Aspetta Secondo me sì E' una frase Da otto parole Ma è una frase Distruggerò Città Può essere No Ok Ehm Distruggerò Città Ehm Possiamo aggiungere Comunque qualche parola Tipo Distruggerò La città Sì beh certo Distruggerò La città Tra poco tempo Magari Tra poco tempo Perché Oppure anche avete Poco tempo Non lo so Magari eh Dopo città Debole Crede che sia Una città Debole Eh no Perché c'è anche Forte Quello secondo me È tipo Io forte Distruggerò La città Debole Ah oh oh Ce l'ho ce l'ho Ce l'ho Allora Forse Io Forte Distruggerò La città Debole La tua città Debole Ok Ok Di nascosto Sì Però Di nascosto Non ha tanto senso Come distrugge Una città Di nascosto Tra poco tempo Quindi per esempio Distruggerò La città Nasconderò Le ricchezze Ehm Perché tu sei debole E io sono forte Ok Ci sarà E ci abbiamo poco tempo E perderai l'onore E ci abbiamo poco tempo Tra poco tempo E ci sarà una guerra E ci sarà una guerra Cioè ci sarà una guerra Allora scrivi Ci sarà una guerra Dove Io Distruggerò La città Ok Sì Tu vai Io lo sto scrivendo E il tuo onore Perché sono forte E tu sei debole E nasconderò Le tue ricchezze Il senso è quello Tra poco tempo Oddio ma Cioè mi è impegato pochissimo Suona benissimo È funzionale Però il problema È che se succede questa cosa Sono cavoli Chi è che vuole distruggere La città E l'onore E io Ho capito Come fare a capire Chi è E già Ma sono otti indizi Allora Cos'è questo? Allora Questo è un cartello illuminato Bravo Ti dà un achievement Quando tu illumini il cartello Allora Questo non lo sapevo È vero Allora Qualcuno di voi Ha mai creato Lo sa Lo so Sì lo dà Qualcuno di voi Ha mai creato Un cartello illuminato? In questa vanilla Mi sembra di no Io non l'ho mai fatto Non credo Io nemmeno Mi pare Allora adesso Noi non dobbiamo fare altro Che Fare un cartello illuminato Provare A vedere Chi tra noi Quando lo illuminerà Non avrà l'accipiente Per vedere l'accipiente Basta Ho riattivo l'acciato Oppure uno di voi Se vuoi posso prendere I cartelli E l'illuminante Andiamo a cercare l'illuminante Allora vieni Bisogna andare Mi pare nei mari Quindi dobbiamo barcarci No delle notte profonde Aspetta che non ci vorrei morire E ne servono almeno Cinque Aspetta Dai zitto Perché se ci muoio Poi me la prendo da te Non voglio assolutamente E poi cosa succede? E poi io mangio A finire quel modo Esatto Sembra che invece gli piaccia Ma anche secondo me Ci ha preso gusto Ok All'usarli E' stato di cioccolato Sai è bello All'usarli Stiamo parlando di te? No Non volevo disturbarti Ci piace parlare di te? No Ok ora Dobbiamo provare Cartelli Cartelli Aspetta qua c'è della legna Li faccio immediatamente Li faccio io Ma non l'hai detto Allora se qualcuno Ha qualcosa da dire Può dirlo adesso Io non ho fatto niente Non nascondo nulla Non lo farei mai No vabbè Poteva Cioè ci sta Però O prima o no O prima o no Io non so Se l'ho mai fatto Cosa? Un cartello così Eh Se adesso ne esci Con sta cosa Ti sta facendo Il tiderino Eh Non va bene Sto tremendo Per pensare Se l'ho mai fatto Ascolta Tubetto di maionese Sta zitto Perché adesso Se esce fuori Che tu l'hai già fatto E tu non mi sai portare Esattamente Entro un secondo Eh Un secondo di cronometro Al punto dove è Quel cartello Che tu avresti già fatto In altre occasioni Io ti faccio divorare Tutta la busta dei grilli Non me lo risolto Ti fai una scorpacciatona Mmm Yum yum Magari non l'ho fatto O magari sì Me lo auguro per te Allora per fare il cartello Mi pare bisogna mettere il cartello Scriverci sopra Poi cliccarci con la sacca E dovrebbe diventare Colorato Giusto E sberducica Sberlucicante Ok Chi vuole iniziare Che non ha niente Da nascondere Anzi Io inizio Che non ho niente Da nascondere Bravo Allora metterò il cartello mio Qui Scriverò Sgorra Ok E guardate qua Palla magia Uh Glow and build Eccolo Glow and build Vedete Quell'advancement Dalla Questo dimostra Che io non sono stato L'abbiamo visto Ok Allora un cartello Ognuno di voi Che bello Ma che schifo Ma ti sei pisciato In terra Vedi Vedi che lo fa Vedi che lo fa Te lo dico io Che schifo Ora Prima di provare Tanto non ci credo Che tu hai piazzato Cartelli col glow squid Anche perché non ce l'hai Quindi Confermami che non hai mai Piazzato cartelli col glow squid Allora ti posso confermare Non piazzarne Non li ho mai Piazzati Ok Perché poi facciamo la prova Anche con te Poi ti volevo domandare Non è che per caso Sei tu Che hai costruito Queste cagate Là sopra la nave mia Allora io Sul lato nave Non ci sono mai andato Magari Perché Tu sei stato Rifiutato Come mio braccio destro Ah Sono stato Rifiutato Sei stato un po' Rifiutato Perché io mi ricordo Stavamo a parlare L'ultima volta Chi può essere Chi può non essere E io non è che ti ho voluto Proprio tanto Non sono una persona vendicativa Quindi non lo farei mai Io Non lo so Non mi fido di lui Perciò che ha detto Scrivi qualcosa E quando te lo dico io Proverai a illuminare Il cartello A Sì È tipo un urlo Ok Non sei Analfabeta Scrivi qualcosa Mettici qualcosa Di tuo Eh Ok Beh almeno l'ha scritto giusto Dai Non ci si può lamentare Ok Ricordati Se viene fuori E tu non me l'hai confessato Che sei stato te Perché se sei stato te Me lo dici Magari Cioè può essere anche divertente Ho molta ansia ora E beh Questo è un brutto segno Vuol dire che è qualcosa Da nascondere però Magari L'ho fatto ma non mi ricordo Però sono sicuro Non l'ho mai fatto Anche qui l'ho fatto Non mi ricordo Guarda che non è che si fa per sbaglio Di illuminare un cartello Ci vuole Eh non lo so Ci vuole fatica Infatti no Io sono sicuro Non l'ho mai fatto Va bene Allora Rimarrò deluso No Lion Deve uscire Io non l'ho mai fatto Vai È uscito Eh si è uscito È uscito È uscito Confediamo Vedi Sono pulito Sei fidato adesso Sono fidato Sono una vecchia simpaticona Va bene Allora Non l'ho ammesso Allora Vai Vado È uscito È uscito Tu mi dici che non devo temere Giusto Non devo aver paura No non devi temere Giuro Ok allora coloralo Ho paura Ho paura No È uscito È uscito Ah sto maledetto Per oggi Lion out